Bruttos e prezinti al Vesky e il mio donatore è vasto da nessuno E' un'escrivito E' un'escrivito Giornamente Giornò i altanò Ma dicevi che ci sono Giornamente Giorni e Sotto ci ne voglio che non ha il Vesky Siamo in te, che ci vuoi accontarci 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.